Mi chiamo Paolo Posocco, sono una guida, ma prima ancora semplicemente una persona profondamente innamorata della montagna. Certo, ci sono tante altre cose che mi appassionano, a cominciare da ogni forma di espressione artistica. Niente, però, è uguali alle sensazioni che riesce a regalarmi la natura meno addomesticata. Quando mi calo nella sua bellezza, mi sento in un luogo prediletto, nell'unica dimensione che mi permette di ritrovare veramente me stesso. Nella sua pace riesco a dare ascolto a una voce che mi invita dal profondo a fare una scelta di vita, a trasformare la montagna nella compagna della mia quotidianità. Realizzare questo desiderio è un percorso in salita. Ma io amo le sfide, soprattutto quelle in cui si intrecciano ragione ed emozione.